Dicevamo che quindi la tua vita è effettivamente un film, un sosseguirsi di situazioni, eventi che ti hanno poi portato... Allora, io penso che la vita sia più interessante dei film, però i film rappresentano la vita. È vero. La vita è molto interessante. Questa è molto sottile. Perché nella vita non c'è un po' più in scritto. È vero, è tutto improvvisato. È vero ragazzi, è verissimo. Amo a pensare alla vita come una sceneggiatura, il tuo giorno ne è detto una pagina. Grazie.